Stimatissimi studenti, buongiorno. Eccoci qua, seconda parte del nostro percorso con Vassili Kandinsky, seguendo sempre quella frammentazione del tempo che abbiamo deciso di utilizzare proprio in questo contesto, che ci permette di dividere il tempo non più in ore, minuti e secondi, ma in un prima e in un dopo. Adesso è anche il momento di dedicarci al durante perché è esattamente lo scopo. Allora se c'è un prima di Kandinsky è rappresentato molto bene da quest'opera. Eccola, si intitola di Kandinsky naturalmente Parco di Akitirka, è del 1901, quindi del primo anno di quel decennio, del primo decennio del Novecento che noi adesso cercheremo di analizzare proprio per comprendere quali ispirazioni hanno guidato l'artista verso la definizione della sua arte astratta. Allora, evidentemente è un'opera che ha dei sentori impressionistici, ma già è evidente come le impressioni naturalistiche insomma non siano ridotte all'essenziale. Questo già ci dà un segno abbastanza chiaro di quello che è l'inizio del percorso dell'artista che realizza questo quadro solo quattro anni dopo aver smesso la sua attività di avvocato. Su quest'opera specifica trovo strabiliante la parte che riguarda l'acqua, quel laghetto, la realizzazione di questo nero di pece rigato con grosse pennellate grasse di un ocra scuro che trovo meraviglioso, nonostante già in quest'opera si noti una riduzione della prospettiva, un appiattimento degli spazi e dei volumi molto interessante. Ecco che allora, proprio nel contesto del discorso di richiamare quali possano essere state le ispirazioni e le osservazioni di Vassili Kandinsky, vi esorto a dare un'occhiata a un'opera importantissima che è di Paul Serousier, si intitola Il talismano, che ora vi farò vedere accomunata l'opera di Kandinsky. Eccola, sulla destra, è un'opera che rappresenta l'inizio di un movimento artistico importantissimo che si chiama Nabis, che affronteremo più avanti. e tra le due opere io trovo delle assonanze interessanti, soprattutto nei riflessi, nel tipo dell'utilizzo del colore, di questa separazione, questo inizio di separazione, di studio specifico anche della vicinanza fra i colori. Ecco che allora, di fronte a quest'opera di Kandinsky, noi abbiamo già un'idea di quello che è il suo prima. Allora vediamo cosa è successo in questo primo decennio del Novecento in mezzo, cioè il decennio che porterà alla realizzazione del suo primo acquarello astratto che abbiamo già potuto vedere nella lezione precedente. Ecco che vi presento una seconda immagine di un'opera strabiliante, meravigliosa, anzi strepitosa dell'artista, eccolo. Si intitola Paesaggio con Torre di Kandinsky del 1908, quindi siamo verso la fine di questo decennio importante che stiamo analizzando. il periodo di Murnau, cioè quando Kandinsky vive in questa zona montana della Germania, che è stato un momento importantissimo per l'artista, in cui naturalmente il colore già lo vediamo lavorato ed esteso in maniera molto più violente. L'opera è già pervasa da un dinamismo completamente diverso, quasi evaporante. Il tratto a colore puro, che è di van Goghiana memoria, lo si può vedere benissimo nella campitura e nella strutturazione grafica dell'opera. Ecco, rivediamola ancora perché è molto importante, vediamo già un lavoro molto molto preciso verso lo studio della comunare determinati colori, strepitose, sono queste nuvole vaporose che si innalzano come fumi di vapore sano e cristallino in questo cielo blu, quasi blu notte. Ormai il vincolo verso la fedeltà dell'aspetto naturale e naturalistico si affievolisce moltissimo e vediamo già proprio questa scomposizione, questa specie di diffusione dei contorni, questo aprirsi dell'opera verso lo spazio che lo circonda che è sicuramente un segno del percorso importantissimo che l'artista farà verso la sua destinazione finale. Adesso un'ulteriore immagine interessante, accomuniamo per l'appunto, ecco l'immagine, accomuniamo il paesaggio contorno del 1900 di Kandinsky a un Erich Eichel della Rothauser, sempre del 1900, se non sbaglio del 1908, in cui cerchiamo di capire se esiste una assonanza o una dissonanza tra quello che è un'opera di Kandinsky di quel periodo e una corrispondente opera del gruppo di Ebruke tedesco, che vuol dire il ponte, un gruppo espressionista, capeggiato diciamo da Ernest Kirchner, che era il suo capostipite, per comprendere se ci sono delle affinità. Beh, sono evidenti, cioè Kandinsky è palesemente anche un espressionista, però è evidente che l'uso del colore, il tema, è trattato in maniera completamente diversa, anche nel tratto. Se noi sulla sinistra notiamo comunque una certa serenità di base, nel poter rappresentare la forma pur disgregata, sulla destra è molto più evidente la pulsione espressionista a tradurre nell'opera una lirica molto più tragica, un drama interiore che invece in Kandinsky è molto meno accentuato. Nell'opera di Echel è evidente anche l'uso del tratto spezzato, del contorno molto molto incisivo, cosa che in Kandinsky invece non risulta essere così palese. Ecco che il percorso dell'artista assume già anche specifiche caratteristiche nei confronti dello studio del colore, che sarà molto 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 importante per poi dare un senso profondo a quelle ultime opere verso la fine carriera totalmente astratte, che fanno parte di quel gruppo di opere che molte persone a volte falsamente, ma in maniera comprensibile sostengono di poter fare anche loro, in cui il significato della linea, del cerchio, del triangolo, del colore, ha comunato certe cose, sarà addirittura sviluppato dall'artista in trattati scientifici splendidi e che io vi esorto ad andare a frequentare il prima possibile. Allora se esistono delle comunanze e dei evidenti temi e momenti di affinità con correnti artistiche del suo periodo, proviamo ad approfondire se esista anche una connessione o un qualche rapporto tra l'opera di Kandinsky e il movimento FAUV di cui vi ho già parlato precedentemente, movimento sviluppatosi in quel periodo in Francia da un gruppo di artisti un po' sconnessi, il cui ispiratore comunque è Henri Matisse, quindi non stiamo parlando di paglia secca. E allora proprio in questo contesto, oltre ad aver accomunato l'opera di Kandinsky a un'opera espressionista, in questa successiva immagine, eccola, ho cercato di fare un confronto diretto fra sempre Paesaggio con Torre di Kandinsky e con un'opera piuttosto sconosciuta di Alfred Maurer che si chiama Paesaggio con Rosso e Blu del 1906. Ho scelto questo artista perché è un artista piuttosto sconosciuto, vi ripeso non solo dalla sua stessa vita ma anche un po' dalla storia dell'arte. Molto, molto brevemente, un artista nato nell'ultimo ventennio del 1800 negli Stati Uniti che apparteneva alla scuola sostanzialmente di Winsler, una scuola classica di cui ricordiamo la famosissima madre di Winsler citata anche in uno strepitoso film di Mr. Bean. Maurer, per l'appunto, a un certo punto, sentendosi legato e del tutto subendo la coercizione di un'accademia che non poteva più sopportare di frequentare, va a Parigi per qualche anno, impazzisce, fra virgolette, e produce quest'opera che avete appena visto che è un'opera sostanzialmente fauve. La violenza del colore sia dell'opera di Kandinsky che quella di Maurer le accomunano ma in maniera completamente diversa. Se i fauves utilizzavano il colore come destinazione finale della totale frammentazione del naturalismo del soggetto, sostanzialmente rendendolo un trinitro, un toluene pronto ad esplodere, le opere di Fauves non erano altro che delle bombe a mano piazzate nei musei, nelle esposizioni, pronte ad esplodere in faccia all'osservatore, solitamente carbonizzandolo, in modo da creare un impatto tale e una sostanziale differenza tra quella che era un po' in quel periodo l'atteggiamento accademico che soprattutto a Parigi con l'école manteneva una certa preponderanza stilistica. Ecco che fra le due opere evidentemente ci sono delle connessioni che magari affronteremo anche più avanti proprio per capire se esista un rapporto diretto fra i due stili. Ultima opera che vi presento in questa piccola discussione è Kandinsky, Cochelle Strike Road del 1909, dove evidentemente ormai la prospettiva comincia a essere completamente annullata, le forme iniziano a tendere verso una loro sintesi formale divisa in triangoli, cerchi, linee e quant'altro, linee mosse, e dove la tavolozza dell'artista si alleggerisce con estrema evidenza ed è il prodromo a quello che sarà poi il suo primo acquarello astratto di cui abbiamo già parlato e quindi noi nella terza parte di questa lezione su Kandinsky ripartiremo da quest'opera per appunto la Cochelle Strike Road del 1909 di Kandinsky per vedere cosa succederà ulteriormente in questo momento compreso tra il prima e il dopo del nostro amato artista. Grazie a tutti, saluti.